Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo qua per parlare di uno degli autori più strabilianti, più incredibili della letteratura italiana Signori, sto parlando di Ugo Foscolo Cioè, voglio dire, Ugo Foscolo Se la vostra professoressa vi dovesse chiedere, inizia a parlare di Ugo Foscolo Poi, che cosa dovreste dire a questa professoressa? Beh, anzitutto vi dovreste mettere comodi, vi dovreste mettere gli occhialini E dovreste iniziare così Quindi, Nicolò Foscolo è già qua, boom Cioè, perché lui non è che si chiama Ugo, lui si chiama Nicolò Ugo sarebbe dato dopo 15 anni Quindi, Nicolò Foscolo, di madre greca e padre veneto, nacque il 6 febbraio 1778 nell'isola Izzante Ozzacinto Già, con questo incipit incredibile, straordinario, voi avete fatto sciogliere lo stesso Cioè, voi già siete avanti Però non è che finisce qua la striella All'età di 10 anni, poverino, gli muore il padre Poi, 5 anni dopo, si trasferisce a Venezia con la macce A quel punto che fa il nostro Ugo a Venezia Beh, ragazzi, qua a Venezia usi, diverte Cioè, a Venezia inizia a frequentare salotti intellettuali Inizia a frequentare la biblioteca marciana Inizia a frequentare il salotto di Isabella Teotocchi al Bizi Una donna di 34 anni con la quale avrà una celazione Pedofilia, noi diremo Pedofilia, veramente Però, vabbè, ragazzi, erano tempi diversi Non si può abbiassimare Come se io mi mettessi con una di 105 anni C'è cosa da pazzi Però, tempi diversi Allora, Nicolò Torniamo alle cose serie Nicolò si sentì un'erede della Grecia Un'erede dell'armonia Del bello che era perduto Lui addirittura scrive Non obblierò mai che nacque da madre greca E che vi il primo reggio di sole E la chiara e selvosa di Tacinto Risonante dei versi Con che Omer e Tioclino La celebravano Cioè, veramente, ragazzi Cose da pazzi Poi Cosa succede? Sono gli anni della rivoluzione francese Sono gli anni della scesa di Napoleone Bonaparte Napoleone Bonaparte viene visto come liberatore Viene visto come eroe Incarnatore di libertà Di Deo Faternitene Nel 1797, ragazzi Nicolò adora così tanto Napoleone Che gli scrive un ode Ode a Napoleone Bonaparte liberatore Si arruona l'esercito giacobino a Bologna Cose da pazzi Ma nello stesso anno, nel 1797 Mi metto così perché questa ve la dovete ricordare Napoleone lo tradisce Sì, lo tradisce Lo tradisce Trattato di Campoformio Napoleone cede Venezia agli austriaci Il mito di un eroe che crolla inesorabilmente Ma allora che cosa succede? Inizia la stesura del suo, forse uno dei suoi più grandi capolavori Le ultime lettere di Jacopo Ortici Che pubblicherà nel 1802 In quegli anni sarà anche impegnato nell'attività bellica Sarà impegnato a combattere nelle truppe di Napoleone Bonaparte Nel 1803 invece pubblica le odi e i sonetti 1804-1806 viene richiamato nuovamente nell'esercito Viene chiamato a combattere sulla manica E cosa succede? Napoleone sta per preparare un'invasione alla peggiore nemica di tutta L'Inghilterra Ma l'invasione è un fallimento Napoleone non farà un fico secco Non farà nulla Niccolò perderà due anni dalla sua vita Comunque, storie e dettagli questi sono 1806 ritorna a Venezia E comincia a frequentare il salotto di Isabella Totò Cabrizio Quindi ragazzi, immaginiamoci Nel 1808 viene offerta addirittura la cattedra di eloquenza a Pavia Cioè, quindi, voglio dire La carriera qua sta andando a provare le stelle Sta andando a gonfie vele Tra il 1812 e il 1813 Lui veramente in quei due anni trascorre In quel biennio trascorre gli anni di maggiore serenità, tranquillità, pace in interiore Li trascorrerà a Firenze e qua pubblicherà le grazie Ma nello stesso anno ragazzi Questa segnata verrà bene Mi metto gli occhiali perché sono serio Nel 1813 Napoleone viene sconfitto all'Ipsia Per Niccolò termina il periodo di pace, di tranquillità e di serenità interiore Nel 1815 gli austriaci, i suoi nemici, gli offrono la direzione della biblioteca italiana Cosa farà Niccolò? Cioè, secondo viaggio, Niccolò poteva mai accettare No! Lui rifiuta la cattedra, rifiuta il posto, il posto fisso rifiuta praticamente Inizia nello stesso anno l'esilio Si rifugge prima in Svizzera Poi andrà a Londra A Londra si stabilisce definitivamente Però a Londra inizieranno i problemi Inizierà comunque sì a tenersi in contatto con i suoi amici attraverso le lettere Però ormai per Niccolò sono finiti i tempi d'oro Cioè, voglio dire Niccolò inizierà ad essere perseguitato da credit orbi, da detrattori Mi scherzo inizierà a cambiare domicilio continuamente Per mantenersi veramente, dovrà farsi un mutuo Cioè, cosa da pazzi Alla fine Si spegne All'età di 49 anni Nel 1827 A Tunam Green A Londra E qui termina la storia Del nostro Ugo Lò Vabbè, Ugo Lò Vabbè, però ho fatto un mix di Ugo e Niccolò Del nostro Ugo Lò Foscolo Questo è tutto Linea allo studio Ciao